Ciao, buonasera miei piccoli geni e benvenuti a una nuova lezione di vita su come sopravvivere su youtube e su come vivere su youtube, visto che ormai la gente ci vive allora, dopo aver lasciato un commento sotto al video di un certo misantropo sono stata bloccata perché ho espresso la mia opinione, le mie idee e di conseguenza, non accettando questo modo di fare tirannide ho deciso di rispondere ulteriormente con un altro mio account due orizzonti che purtroppo ho dovuto fare per, insomma, quando in tempi c'era google plus e bisognava integrare un po' di account, ma va bene lo stesso, non ci frega questa cosa comunque, cosa ho scritto? Ho scritto, cara, grazie per avermi bloccata non pensavo fosse allo stesso livello di certa gente che su youtube blocca quando non gli si dà ragione che delusione! Ovviamente non è vero che sono delusa, ci mancherebbe cosa ha risposto, costei? Se permetti, a casa mia decido io se ti ho bloccata e perché evidentemente mi hai offeso non so nemmeno chi tu sia e se ti ho bloccata, ricicci fuori con un altro nick ma un minimo di dignità, no? se sei quella che mi ha detto che sei disiscritta dal mio canale e che non mi crede non rispondere nemmeno che ti blocco subito mi fanno scendere il latte le ginocchia certi discorsi allora, premettiamo che youtube non è tua e quindi non può essere casa tua cosa anche che ho scritto in seguito ovviamente definendomi per quella che sono ho detto no, tesoro, sono due horizons come tutti amano chiamarmi qui sopra e questo è il mio secondo account che ho da una vita credo che tu abbia bisogno di una bella registrata come solo io so fare esattamente in questo video sappi che l'epoca Mussolini è terminata da un bel po' e tra l'altro Mussolini non ha fatto una bella fine e ricorda anche che youtube non è casa tua sei in affitto, come ho detto prima a breve ti spiegherò come ci si comporta sul tubo nei bisogno baci sul tubo bisogna comportarsi in questo modo fai un video, sai che ci sarà gente che ti darà ragione che ti darà torto, chi non commenterà chi metterà dislike, chi metterà like se non riesci a sopportare ciò blocchi i commenti in entrata e fine perché è assurdo che una persona pubblichi video e poi sotto vedi soltanto commenti positivi bravo, brava, bene, bis, sei fantastica, sei mitica non vedi un commento negativo ma neanche se provi a concentrarti per 24 ore e trovo che faccia veramente schifo sta cosa io credo di aver bloccato in tutta la mia carriera tra virgolette su youtube pochissime persone per poi averle sbloccate in seguito a distanza di mesi e solamente perché scrivevano magari delle cose anche un po' volgarotte ma molto sexy e insomma se qualcuno capita sotto un mio video e legge certa roba può non piacere insomma a me non frega nulla tutti sotto i miei video hanno avuto la possibilità di scrivere quello che volevano come lo volevano anche dandomi della cretina perché non mi risento di queste definizioni fosse vero potrei anche risentirmi perché comunque bisogna anche saper pesare quello che si riceve il mio messaggio era semplicemente questo questo qua dove fosse l'unica cosa offensiva che si poteva evincere era questa no? disagio di ultra quarantenni frustrati ma è vero perché nel momento in cui tu ti registri con un altro account per fare la guerra ad altre persone che fanno video e poi farti pure sgamare forse hai dei problemi ma è così perché su youtube in realtà bisognerebbe un attimo fare qualcosa per svagarsi non per insultare la gente non per dire ti denuncio ho fatto la denuncia ti denuncerò guarda cosa dice il codice penale i commenti normalissimi vanno lasciati ci deve essere qualcosa di piccantello altrimenti non ha neanche ragione di esistere un canale youtube secondo me quindi io la vedo in questa maniera altrimenti meritate veramente che quella legge che vuole essere approvata di cui potrete potete trovare informazioni su wikipedia italia andando a fare qualsiasi ricerca su wikipedia vi uscirà fuori un messaggio in javascript vi meritate veramente che il web diventi una galera in cui tu tu e anche tu e tu e tu e tu non potrete più fare neanche un video non potrete più esprimere nulla perché la gente che blocca per un commento come questo ha seri problemi ha seri problemi sociali ok quegli stessi problemi sociali che vi fanno riprendere mentre siete che ne so al mare in piscina per far vedere che avete una vita sociale oltre a youtube invece facendo così fate capire che non ce l'avete lo stesso quindi vi insegno come stare su youtube detto questo insomma che dire cara cara cosa vedi ti ho anche oscurata perché non voglio farti fare figure di merda e non voglio neanche dire qual è il tuo accanto originale sempre per evitarti figure di merda perché credo che una persona a una certa età dovrebbe usare un po' più il cervello e cercare di accettare quello che dicono gli altri ma perché non si accetta quello che dicono gli altri perché forse forse in questo commento c'è qualcosa di vero e magari qualcun altro che passa di lì può pensare beh ma sai che forse non ha detto tante stronzate questa e mi dispiace perché comunque mi rendo conto che youtube sta diventando in parte perché fortunatamente youtube è molto vasta sta diventando un concentrato di gente che deve far uscire il peggio di sé e rompersi i coglioni a vicenda pur non sapendo manco con chi cazzo ce l'ha perché alla fine si uno fa un video gli vedi la faccia ma chi cazzo è cioè vabbè comunque detto questo spero veramente che questa lezione vi sia piaciuta e alla prossima lezione ciao ciao ciao